un saluto da marco aria artico marittima si è tuffata in mediterraneo e sta favorendo un forte peggioramento del tempo in tutta la penisola domani con lo spostamento della circolazione ciclonica verso i balcani le regioni maggiormente coinvolte nel maltempo saranno quelle adriatiche dove inizieranno a soffiare venti molto impetuosi da nord nord est e ci saranno anche le prime nevicate di stagione sui monti in abruzzo tempo impeggioramento un po su tutta la regione che continuerà anche domani con precipitazioni che ad intermittenza potranno interessare tutti i settori sebbene quelli adriatici saranno maggiormente coinvolti in montagna prime nevicate oltre i 2000 metri la ventilazione tra questa notte e domani mattina virerà da quadranti settentrionali e diverrà anche molto intensa nelle zone costiere dove il mare sarà molto mosso agitato le temperature minime di questa notte saranno comprese tra 10 e 18 gradi e le massime di domani in netta diminuzione con valori compresi tra 13 e 20 gradi l'appuntamento con il medio e per domani mattina buona serata